Ben trovati nell'angolo dello sport, continua la marcia del Pescara che contro il Bari mette a segno il settimo risultato utile consecutivo eguagliando il primato di Zeman e tutto lascia prevedere che sia possibile sabato prossimo in casa della Salernitana superare anche questo tetto e fare l'ottavo risultato utile consecutivo. Tra Salernitana e Pescara ci sta esattamente la metà dei punti, 46 per il Pescara, 23 per la Salernitana. Mancherà Campagnaro che con l'ammunizione subita sarà squalificato per un turno. Le immagini che vedete dietro del nostro regista Leo Di Blasio ci fanno ricordare che al termine della partita alcuni esagitati tifosi del Bari hanno dato vita ad un attacco al bar dell'Incurva Sud, hanno fatto dei danni piuttosto seri. C'erano 1.000 euro in cassa, poi hanno preso oltre 100, un centinaio e passa di confezioni di birra. Insomma è stato un brutto momento. Le forze dell'ordine sono intervenute, sono uscite delle manganellate, c'è qualcuno che ha subito anche delle ferite. La Questura ha fatto sapere che stanno adesso analizzando tutte le immagini per cui è possibile ed è probabile che a breve riescano anche a trovare gli autori o parte degli autori di questo attacco che sa di qualcosa di schifoso perché in definitiva non è questo il calcio, non è questo il tifo, non è questo il modo di proporre il proprio entusiasmo e poi si vengono a lamentare se la gente non va più allo stadio oppure se ci sono delle perplessità da parte della gente da bene. Ma torniamo al Pescara. Ha avuto un turno estremamente positivo perché tolto il Cagliari che ha vinto il suo incontro hanno perso nell'ordine il Crotone in casa che ha subito la sua prima sconfitta interna. Ha perso il Novara, ha perso il Brescia, ha perso l'Avellino. Insomma in definitiva i tre punti del Pescara valgono davvero doppio e si sta allargando anche quello che si dice il gap, la forbice, fra la terza e la quarta classificata. Oddio io personalmente non è che ci conterei troppo perché in definitiva ci sono ancora tanti incontri da disputare ed è probabile che delle squadre che adesso sono leggermente attardate. Parlo del Bari, parlo anche del Novara, anche se tutti dicono che Baroni nelle ultime partite di campionato subisce delle paure particolari. Ma lo stesso Avellino potrebbe riprendere, lo stesso Brescia. Insomma insediare il terzo posto del Pescara no, ma ridurre quella forbice ad un punteggio inferiore ai dieci punti mi pare che sia tranquillamente preventivabile. Ma il Pescara di oggi è veramente una gran bella realtà. Dobbiamo dare atto a Massimo Oddo di aver costruito in poco tempo, perché in definitiva dopo qualche partita giocata così con qualche sbavatura di troppo, è riuscito a dare gli equilibri giusti a tutta la formazione e il gioco espresso al Pescara è bello, diciamoci la verità. Una sorta di tic-tacca che però ha una veste tutta pescarese, fatta di velocità, fatta di spregiudicatezza, fatta proprio di consapevolezza dei propri mezzi. Diciamoci la verità, con le vittorie aumenta l'autostima, con le vittorie aumenta la fiducia in se stessi, con le vittorie tutto diventa più facile. Infatti si usa un'espressione, si va in discesa. Questo Pescara è bello da vedere. Se riusciranno Oddo e i responsabili tecnici, soprattutto quelli della preparazione fisica, a mantenere questo livello, beh insomma ci sarà davvero da godere a fine campionato. Per ora è tutto. Un affettuoso abbraccio da Gianni Lussosa a voi tutti come sempre, un ringraziamento al cameraman Adriano Masciarelli e un ringraziamento affettuoso all'amico e collega Leo Di Blasio, regista della puntata. Appuntamento alle prossime edizioni di Tivoco Sport.